Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di queste, le cuffie Pulse 3D Wireless di PS5, quindi le cuffie ufficiali o meglio l'headset ufficiale di Sony per la console di nuova generazione. Ho avuto la fortuna di acquistarle per tempo prima che esaurivano, un po' come la console, e le ho testate, le ho testate con titoli come Resident Evil Village, la demo ovviamente, Demon's Souls, Fortnite ed altri giochi ovviamente che le supportano e il risultato è davvero sorprendente ragazzi, ve lo posso assicurare. Comunque, le cuffie sono strutturate in modo tale che non vanno regolate manualmente a differenza delle altre cuffie di cui vi ho parlato, ma si adattano, come vedete, tramite l'archetto superiore, alla testa del videogiocatore in base alla sua dimensione, vedete? Si adattano automaticamente, quindi non dovete, diciamo, regolarle manualmente, il che è un bene. Un'altra cosa positiva di queste cuffie risiede nella qualità dei padiglioni, come potete vedere sono abbastanza imbottiti, quindi sono morbidissimi da indossare, anche, e io direi, soprattutto per lunghe sessioni. Sono davvero comodi, ve lo posso assicurare. Sulla sinistra sono presenti tutti i vari pulsanti, mentre sulla destra non c'è nulla, quindi quando indossate, diciamo, le cuffie avete tutto a portata, diciamo, di mano sulla sinistra. Ci sono pulsanti per gestire la chat e il gioco, quindi avete la possibilità di decidere se dare priorità alla chat o al gioco. Avete uno switch che può essere attivato o disattivato per attivare la cosiddetta modalità ambient on, ossia la possibilità di ascoltare o meno la propria voce. Non so se voi avete mai utilizzato quelle cuffie in cui, quando parlate, ascoltate anche la vostra voce all'interno dei padiglioni. Per me è una funzionalità di vitale importanza perché in questo modo evito di urlare. Poi vi è, ovviamente, la gestione del volume e un pulsante per accendere e spegnere, o meglio, attivare o disattivare il microfono. Vedete? È un pulsante, non è uno switch, quindi con questo pulsante potete attivare o meno il microfono. C'è da dire che quando utilizzate le cuffie non potete, diciamo, ricorrere al pulsantino che trovate sul DualSense per attivare o disattivare il microfono, perché se collegate le cuffie tramite il cavo potete farlo da qua. Ma se utilizzate questi headset dovete per forza farlo da qui, con questo pulsantino. Poi vi è ovviamente, diciamo, l'ingresso per il cavetto per ricaricare l'headset e il jack. Queste cuffie, diciamo, possono essere utilizzate sia in modalità wireless su PS5, sia in modalità cavo. Ovviamente su PS5 dovete poi collegare il dongle USB, la chiavetta USB che trovate nella confezione. Le cuffie sono compatibili anche con PC, Xbox One e altre piattaforme, però dovete utilizzare il cavo. Quindi dovete utilizzare un cavetto jack che trovate nella confezione collegandolo dalle cuffie al controller. Potete usare sia questo, diciamo, ingresso jack se avete delle cuffie Tartle Beach sia, diciamo, l'ingresso originale, quindi quello del controller. Ovviamente utilizzando queste cuffie su Xbox One perdete di molto la qualità, perché partiamo dal fatto che non avrete il 3D offerto dalle cuffie. Quindi quell'effetto per cui sono state concepite. Ma anche a livello qualitativo l'audio ne risente, quindi diciamo, se avete una PS5, allora acquistate assolutamente queste cuffie, perché avrete un'esperienza senza precedenti. Ovviamente nei titoli supportati. Se invece avete magari intenzione di acquistare un paio di cuffie universali che volete usare un po' su tutte le piattaforme, io vi sconsiglio queste cuffie, perché ci sono molte altre cuffie wireless, di cui parlerò in un prossimo video anche, che sono compatibili, diciamo, con varie piattaforme. Se avete una PS5, allora assolutamente acquistate queste cuffie quando ovviamente riuscite a trovarle. Io vi dico che le ho acquistate su Amazon, quindi le trovate su Amazon quando ritorneranno. Ad un costo di 100€. Un costo giustificatissimo perché vi posso assicurare che nella demo di Resident Evil Village è davvero allucinante. Cioè poter sentire i suoni dalle varie direzioni, avere la sensazione che qualcosa o qualcuno vi stia alle spalle, insomma, è da provare. Detto così magari non rende la stessa cosa, ma vi posso assicurare che provandole ve ne innamorerete subito. Se siete interessati ad acquistarle potete trovarle ovviamente presso i vari rivenditori non appena saranno disponibili, come vi ho detto, ad un costo di 100€ circa.